«Domanda! Domandaci!» disse Gollum. Bilbo si diede schiaffi e pizzichi, si aggrappò alla sua piccola spada, cercò perfino in tasca con l'altra mano e vi trovò l'anello che aveva raccolto per terra nella galleria e di cui si era dimenticato. «Cos'ho in tasca?» disse. Parlava tra sé e sé, ma Gollum credette che fosse un indovinello e ne fu sconvolto. «Non vale! Non vale!» si bilò. «Non vale mio tessoro! Non vale domandarci cosa ha esso nelle sue brutte tasche!» Rendendosi conto di quanto era successo e non avendo niente di meglio da domandare, Bilbo insistette nella sua domanda. «Che cos'ho io in tasca?» disse a voce più alta. «Sì!» si bilò Gollum. «Deve farci dare tre risposte, mio tessoro! Tre risposte!» «Benissimo! Sotto con la prima!» disse Bilbo. «Mani!» disse Gollum. «Sbagliato!» disse Bilbo, che per fortuna aveva tolto la mano dalla tasca. «Prova di nuovo!» «Disse Gollum più agitato che mai!» «Pensò a tutte le cose che lui stesso teneva in tasca!» «Grische di pesce, denti di orchi, conchiglie umide, un pezzo d'ala di pipistrello, una pietra affilata per raffilarci le sue zanne e altre cose orribili!» «Si sforzò di pensare cosa potesse tenere in tasca l'altra gente!» «Coltello!» disse infine. «Sbagliato!» disse Bilbo. «Che il suo l'aveva perso tempo addietro!» «Ultima risposta!» Adesso Gollum era in uno stato tremendo. Molto peggio di quando Bilbo gli aveva fatto la domanda sulle uova. Si bilò e farfugliò, si dondolò avanti e indietro. Batte i piedi per terra, si contorse, ma ancora non osava sprecare la sua ultima risposta. «Forza!» disse Bilbo. «Sto aspettando!» Cercava di sembrare allegro e baldansoso, ma non era affatto sicuro di come sarebbe andato a finire il gioco, che Gollum indovinasse o no. «Il tempo è scaduto!» disse. «Spago!» «O niente!» strillò Gollum, che non era un giocatore molto corretto, dando due risposte insieme. «Sono due risposte!» «E sbagliate entrambe!» gridò Bilbo, assai sollevato e subito balzò in piedi, appoggiò la schiena alla parete più vicina e protese la piccola spada. Sapeva che, ovviamente, le gare di indovinelli erano sacre ed estremamente antiche e che perfino le creature più malvagie avevano timore ad imbrogliare quando vi giocavano. Ma sentiva di non potersi fidare della promessa di quel coso viscido. In caso si fosse trovato alle strette, qualsiasi scusa sarebbe stata buona per non mantenerla. e in fondo quell'ultima domanda non era stata un vero indovinello, secondo le regole antiche. Ad ogni modo Gollum non lo attaccò subito. Osservava la spada in mano a Bilbo, sedeva fermo, rabbrividendo e sussurrando. Alla fine Bilbo non poteva aspettare oltre e disse Beh, e la tua promessa? Voglio andarmene e tu devi mostrarmi la via. Davvero, tessoro? Abbiamo detto che avremmo mostrato la via d'uscita al birbante piccolo Beckins? Sì, sì. Ma che cos'ha esso nelle sue tasche? Niente spago, no. Ma nemmeno niente. Oh no. Callum! Lascia perdere, disse Bilbo. Ogni promessa è debito. Seccato e impaziente. Ecco quello che è tessoro. Sibilò Gollum. Ma deve aspettare, sì. Deve. Non possiamo risalire le gallerie così in fretta. Prima dobbiamo andare a prendere certe cose. Sì, certe cose di cui avremo bisogno. Allora spicciati, disse Bilbo, sollevato al pensiero che Gollum si allontanasse. Pensò che stesse solo cercando un pretesto e che non avesse intenzione di tornare. Di cosa stava parlando Gollum? Quali potevano essere le cose utili che teneva da parte sul lago oscuro? Ma si sbagliava. Gollum aveva davvero intenzione di tornare. Era arrabbiato ora e aveva fame. Ed era un essere miserabile e malvagio e aveva già un piano. Non lontano di lì c'era il suo isolotto di cui Bilbo non sapeva niente e in un nascondiglio conservava insieme ad alcune spreggevoli cianfrusaglie una sola cosa molto bella, bellissima, meravigliosa. Aveva un anello, un anello d'oro, un anello prezioso, un tesoro. Il mio regalo di compleanno, sussurrò tra se e se, come faceva spesso nelle buie giornate senza fine. Ecco cosa ci serve adesso, sì, ci serve. Gli serviva perché era un anello magico e se uno lo infilava al dito diventava invisibile. Solo in pieno sole si poteva essere visti e solo per la propria ombra che restava comunque vaga e indistinta. E il mio regalo mi fu dato per il mio compleanno il mio tessaro. Questo era quello che si era sempre detto. Ma chi poteva sapere in che modo Gollum fosse entrato in possesso di quel regalo. Tanto tempo addietro nei giorni lontani in cui anelli come quello erano ancora sparsi per il mondo. Forse neanche il signore che li governava avrebbe potuto dirlo. All'inizio Gollum lo indossava finché non si stancò, poi lo conservò in un sacchetto a contatto della pelle finché la pelle non si irritò e ora di solito lo teneva nascosto in un buco nella roccia sul suo isolotto e vi ritornava sempre per guardarlo. A volte però se lo rimetteva al dito quando non poteva sopportare di rimanere separato più a lungo o quando aveva tanta tanta fame ed era stanco di mangiare pesce allora strisciava lungo i passaggi oscuri in cerca di orchi solitari. Da allora si avventurava perfino in posti dove le torce erano accese e gli facevano sbattere e dolere gli occhi. Infatti non occorreva alcun rischio o no proprio nessuno nessuno lo vedeva nessuno si accorgeva di lui finché non li strangolava aveva infilato l'anello solo qualche ora prima e aveva catturato un urchettino ah come strillava gli erano rimaste ancora un paio di ossa da rosicchiare ma voleva qualcosa di più tenero nessun rischio proprio così sussurrò tra sé non ci vedrà non è vero tesoro mio no non ci vedrà e la sua odiosa piccola spada sarà inutile sì proprio così queste erano le idee che passavano per la sua testolina malvagia quando improvvisamente filò via dal fianco di Bilbo e scivolò di nuovo sulla barca andandosene al buio Bilbo pensò di averla fatta finita con lui comunque attese per un po' non avendo idea di come trovare da solo la via di uscita ad un tratto di un grido acutissimo che gli fece correre un brivido fin nel midollo delle ossa non molto lontano da dove era risuonato il grido non molto lontano da dove si era sentito il grido Gollum impregava e gemiva nelle tenebri sul suo isolotto stava rovistando dappertutto cercando e perlustrando in vano dove sta dove sta lo udì gridare Bilbo si è perso il mio tesoro perso perso morte e dannazione a noi il nostro tesoro si è perso che succede gli gridò Bilbo cosa hai perso non farci domande strillò Gollum non sono a fare i suoi no Gollum si è perso Gollum 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 beh anch'io mi sono perso gridò Bilbo e voglio ritrovare la strada il gioco l'ho vinto io e tu avevi promesso perciò muoviti muoviti e portami fuori di qui e poi continua pure le tue ricerche per quanto Gollum sembrasse così disperato in cuor suo Bilbo non riusciva a provare molta pietà e aveva la sensazione che qualunque cosa fosse quella che Gollum voleva con tanta disperazione difficilmente poteva essere qualcosa di buono muoviti gridò ancora no non ancora tesoro rispose Gollum dobbiamo cercarlo si è perso Gollum